Inizia l'opso. Questo pesce però non mi mette al sicuro. Anche pescino ha preso qualcosa. Grazie! Non è giovane. Questo siamo cari. Grazie. Hai parlato di un piano verde da un chilo? Sì! Non ho capito che sei passato in passaggio. Ok. Vero Marco con la lezza. Grande! Vai! Due a due! Forza! Evi appena realizzato il due a uno? Il terra rimontato! Tantossi di accettare filo da torcere. Marimba! Com'è? Marimba! Marimba! Una cordina e un marimba! Marimba! Due a due! Giusto! Due a due! Sono un bel ritmo e la pensare non mi deve. Riuscito? Eccone un altro! Sulla bocca sorridi ma scopo che hai le lacrime agli occhi! Mi permette la sega di puntare 3 a due con un'altra magnifica cordina! Potrei andare avanti tutto il giorno. Ah! Eccolo! Wow! Marco! Siamo 4 a due il Marimba! Marimba! Niente male! 4 a due è un match decisivo. Sono canto. Guardate com'è concentrato. Senta l'attenzione! Ma non è il tipo che si appartiene se il gioco si è natura? Oltre a Brasile! Ma c'è? Vero! È il classico, è colpo di cosa. Altro a tre. Bromson, mostri. Che basta sì. Che è la gara più accesa che pare. Brasile tre, Inghilterra cinque. Capone. Sì. Basta.